TRIBIPOIA 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 SONEL TRIBIPOIA TRIBIPOIA Il nostro coraggiosissimo presidente oggi non si è presentato alla riunione, ha mandato il suo lacche Antonelli. E allora ragazzi di me cosa gli rispondiamo? Trippi, trippi, vaffanculo! Siamo tutti armaviva! Siamo tutti armaviva! Siamo tutti armaviva! Trippi, trippi, vaffanculo! Siamo tutti armaviva! Siamo noi armaviva! Siamo tutti armaviva! Siamo tutti armaviva! Siamo tutti armaviva!